Musica Lunedì 3 agosto Serzale ha festeggiato 400 anni La giornata di celebrazione iniziata alle ore 17.30 con la scopertura di una targa che è stata affissa su Palazzo Scalise La prima casa di Serzale in piazza Casolini vicino alla chiesa madre E' proseguita alle ore 18 in piazza Italia con il momento istituzionale che ha visto la presenza di molti sindaci del comprensorio Del sindaco di Serra Stretta, di un discendente della famiglia Serzale e di autorità civili, religiose e militari In serata a partire dalle ore 21 la proiezione sul Serzale da bosco a città Una rappresentazione teatrale con l'attore Mariano Riccio e Antonia Gualtieri Uno spettacolo musicale con il cantautore Carmine Torchia e il musicista e antropologo Ettore Castagna Inoltre sono state presentate alcune pubblicazioni di un cofanetto celebrativo dei 400 anni Realizzato all'artista Sirelli Presenti come sempre le telecamere di RTC Si è stata la cosa importante pensare di organizzare qualcosa pur con le restrizioni che ci impone questa emergenza sanitaria Però non potevamo mancare a questo appuntamento con la storia Quindi oggi festeggiamo 400 anni di vita questa nostra comunità Una comunità giovane ma dai valori antichi Quindi una bellissima comunità Siamo veramente felici di essere qui Abbiamo tanti cittadini, tanti amici sindaci C'è un rappresentante della famiglia Sersale che è venuto apposta da Roma Il sindaco di Serrastretta con il quale siamo gemellati Che sono i nostri genitori Il sindaco di Scigliano E tanti amministratori È stato veramente difficile in qualche modo cercare di concentrare tutto in una giornata Ma non potevamo non farlo Abbiamo, diciamo, sono state realizzate delle cose molto belle per la giornata di oggi Sì, questo è un aspetto che ci inorgoglisce Questo diciamo di avere basato questa storia, questi 400 anni Sui valori dell'accoglienza, dell'operosità, dell'aboriosità E dell'orgoglio e del senso di appartenenza alla nostra comunità Oggi c'è il senso di comunità Oggi abbiamo veramente riscoperto quel senso di comunità Tutta la città si è stretta intorno alla cittadina di Sersale Festeggiamo insieme tutti quanti Quelli che siamo qui presenti Ma anche quelli lontani Chi per motivi di lavoro non può essere presenti Quindi stasera li ricorderemo tutti Perché oggi veramente è un momento di comunione, di comunità E oggi veramente a me fa piacere venuta questa gente Questa partecipazione Nonostante tutte queste restrizioni Ma oggi dovevamo assolutamente festeggiare In una maniera magari restrittiva Volevamo fare tantissime cose Però questo Covid non ce l'ha permesso Però oggi siamo qua E fino a questa sera vogliamo celebrare Dignitosamente e con grande passione civile Che ci ha sempre contraddistinto Questa comunità, questi nostri 400 anni Sì, effettivamente è così Ritrovarci oggi tutti insieme qui a Sersale È veramente un segno di grande gioia, di festa E soprattutto di orgoglio per noi Che siamo fortunati a vivere questa data storica Che rimarrà indelebile nella nostra comunità Una comunità da sempre attenta Dedicata all'ospitalità, all'accoglienza, al lavoro Una comunità molto dinamica Che fa ogni giorno sì Che diventi sempre il fiore all'occhiello del comprensorio Che hanno bisogno di essere un'occhiello del comprensorio del comprensorio del comprensorio del comprensorio del comprensorio del comprensorio deloro campagne Grazie a tutti.